benvenuti a questo nuovo appuntamento siamo ad assago in via verdi al numero 4 fratelli giacome e io sono in compagnia di stefano ciao stefano benvenuti a tutti grazie e del mitico alessandro ciao alessandro ciao un saluto a tutti come sempre siamo qui per parlare appunto di seat di cupra ma anche di motorino elettrico una grande novità tutto da scoprire appunto in questo appuntamento se di cosa inizieremo a parlare proprio nel specifico cominciamo a parlare di cupra delle novità delle vetture disponibili pronta consegna di nuova seata rona nuova set ibiza e poi col collega alessandro sulla parte dei motorini elettrici e poi c'è una chicca è ma lasciamo per ultima una novità di cui vi parleremo verso la fine dell'appuntamento bentornati nel nostro cupa garcio di assago via verdi 4 abbiamo coesposte tre formentor motorizzazione benzina diesel plug in hybrid in questo momento come disponibile immediata abbiamo anche versioni velozze da 310 cavalli colore matte grey opaco benzina 150 cavalli automatiche vari colori e plug in hybrid da 204 245 cavalli venite a scoprirle per le promozioni in noi e inoltre stanno rimettendo anche gli incentivi statali pertanto goderanno di ottime offerte venite a scoprirle in pronta consegna ci spossiamo ora dalla parte di seata abbiamo che spossa nuova seata rona e nuova seata ibiza nuova seata rona completamente ridisegnato sulla parte frontale con i fendinebbi e posizionati nella parte più alta nuovi fari eco led e full led nuovi disegni di cerchi lega ma soprattutto la parte interna completamente ridisegnata sono aumentate anche le dotazioni di sicurezza di serie pertanto vi consiglierei di venirla a vedere di fianco abbiamo seata ibiza anch'essa con nuove dotazioni di serie plancia completamente ridisegnata e sistemi sicurezza di ultima generazione venite a scoprire anche lei con motorizzazione benzina e metano rientrano gli incentivi statali in questo momento in vigore venite a scoprirla con le promozioni che abbiamo in corso un saluto a tutti sono alessandro della seate giacomel siamo qui a fianco al nostro nuovo prodotto seat ovvero il seat mo un motorino completamente elettrico 125 le caratteristiche principali di questo motorino la possibilità della ricarica a casa o direttamente sulla sottosella inoltre l'interno del sedile può alloggiare fino a due caschi completi questo nuovo prodotto unicamente legato al marchio seat con garanzia seat e tutto siamo arrivati proprio alla fine di questo appuntamento ma come avete capito tutto lo staff seat cupra vi aspetta qui ovviamente in concessionaria ma c'è una novità chi è che la ricorda stefano alessandro stefano vai ricordo la novità che da finì questo mese inizio ottobre sarà disponibile anche la nuova cupra born vettura totalmente elettrica venite a scoprirla nel nostro cupra garage allora per questo e tante altre novità venite a trovarci e adesso ci siamo trasferiti nel comodo e accogliente salottino scoda accanto a me c'è william ciao william ben ritrovato ciao arianna ben ritrovato anche a te ben ritrovati nel salone di scoda in via verde al 4 da sago sono lieto di presentarvi un importante novità questo mese abbiamo in arrivo la nuova scoda fabia al momento la presenterò in forma virtuale la presentazione ufficiale avverrà nei saloni ad ottobre però la vettura vi informo che è già configurabile presso i nostri showroom e quindi mi invito a venirci a trovare per scoprire nel dettaglio la nuova fabia inizio ad illustrarvi qualche importante novità nuova fabia rispetto al precedente modello cresce di dimensione abbiamo una vettura che arriva a 4 metri e 11 di lunghezza quindi 11 centimetri in più della precedente abbiamo un vanno di carico maggiorato di 50 litri rispetto al precedente prodotto arriviamo a 380 litri di volume quindi diventa veramente spaziosa questa nuova fabia abbiamo ultime motorizzazioni di nuova generazione tutte a benzina eventualmente abbinabile anche il cambio automatico sulla motorizzazione 1000 da 110 cavalli le altre motorizzazioni disponibili al momento sono il 1000 da 80 cavalli e il 1000 turbo benzina da 95 cavalli e 110 cavalli abbiamo studiato delle iniziative finanziarie e di noleggio ad hoc per nuova fabia vi invito a venire a scoprire presso i nostri showroom e presso i nostri venditori specializzati scoda vi do giusto due informazioni generali abbiamo studiato per questo lancio di nuova fabia un noleggio a lungo termine per la durata di 36 mesi e 30 mila chilometri in totale un canone mese iva compresa di 256 euro ovviamente il canone di questo noleggio è comprensivo di manutenzione gomme invernali rca incendio e furto e casco ovviamente l'offerta è personalizzabile quindi vi invito a venire a scoprirla presso le nostre sedi se non fosse interessati al noleggio abbiamo anche un prodotto finanziario ad hoc che è il nuovo cleaver value è un finanziamento che prevede un impegno di ritiro garantito dopo tre anni quindi avrete la possibilità di iniziare a guidare la vostra nuova fabia guidarla per tre anni e decidere fra tre anni se riscattarla restituirla o rifinanziarla anche qui vi do un paio di dettagli sulla rata con un anticipo di 6.600 euro la rata è a partire da 175 euro al mese per 35 mensilità ripeto il chilometraggio studiato in questo esempio è di 30 mila chilometri nei tre anni ripeto vi invito a venire a scoprire nei dettagli con i nostri consulenti buonasera a tutti di nuovo benvenuti dal salone scoda di fratelli giacomo e qui ad assago questa sera vorrei parlarvi di fabia twin color solo vetture in pronta consegna sono una quindicina di esemplari per chi non la conosce le dotazioni principali telecamera posteriore e vetri oscurati sensori parcheggio front assist cruise control climatizzatore automatico 6 airbag 6 casse e tutti i dispositivi multimediali per collegare i telefoni cellulari con la vettura abbiamo ancora una quindicina di vetture tutte disponibili in pronta consegna nella motorizzazione da 60 cavalli che è idonea per i neopatentati a partire da 13.500 euro 95 cavalli turbina geometria variabile ne abbiamo ancora una decina a partire da 15.400 euro e ci sono diverse combinazioni di colori tra i quali potete scegliere se volete vederle dal vivo dovete solo venirci a trovare e queste sono disponibili tutte pronta consegna e sono disponibili naturalmente anche per qualunque prova su strada in attesa che arrivi il modello nuovo tra una quarantina di giorni intorno alla metà di ottobre vi ricordo che queste vetture di cui vi ho parlato le trovate tutte sul sito di fratelli giacome con ampi book fotografici che le descrivono all'esterno e all'interno percorrendo via verdi ci siamo fermati qui in casa volkswagen per scoprire tante novità e saluto dennis e giuliano parte dello staff che troverete venendo qui quindi ciao dennis ciao a tutti e state pronti perché partiremo subito con tante novità buonasera sono giuliano mi occupo di veicoli commerciali e per questo fine mese ci occupiamo di multivan abbiamo dei veicoli nuovi pronta consegna dei chilometri zero qualche usato è la macchina della famiglia e delle vacanze vi aspettiamo tutti qui per provarli e vedere quanto sono carini buonasera ed eccoci ad assago volkswagen in fratelli giacomel questa sera presenteremo volkswagen id3 la nostra vettura elettrica totalmente elettrica abbiamo a disposizione delle auto in pronta consegna per sfruttare gli ultimissimi incentivi statali e regionali per chi chiaramente risiede regione lombardia abbiamo a disposizione in produzione confermata quindi che arriveranno veramente a breve delle 45 kilowatt interessantissima volkswagen id3 city con autonomia fino a 320 chilometri da utilizzare sia nell'utilizzo cittadino appunto sia in extraurbano quindi per delle gite anche intorno alla nostra grande città volkswagen id3 da 45 kilowatt è un prodotto veramente molto molto difficile da trovare abbiamo circa un 15 vetture in arrivo è un prodotto che in questo momento delle tempistiche di consegna veramente lunghissime circa otto mesi di attesa quindi trovarle in pronta consegna o in arrivo è veramente una rarità abbiamo a disposizione poi delle 58 kilowatt con autonomia fino a 420 chilometri e anche qualche 77 kilowatt con autonomia fino a 520 chilometri venite a trovarci in modo che possiate vedere da vicino ai d3 in salone possiamo chiaramente effettuare una prova su strada molto molto volentieri abbiamo due id3 sempre pronte test drive magari appunto fateci giusto una chiamata qualche minuto prima per poterci organizzare al meglio ecco abbiamo oltre ad id3 anche volkswagen id4 quindi la sorella maggiore anche lì sia in salone da vedere e sia da provare su strada quindi sempre pronte su strada le nostre elettriche per i test drive colgo l'occasione anche per ricordare che abbiamo anche delle tante tante ticross nuove e a chilometri zero da poter offrire sul mese di settembre per il prodotto nuovo abbiamo ancora le tre rate in omaggio ci teniamo a pubblicizzarlo perché è un'offerta molto difficile da trovare è stata rinnovata solo da alcune concessionarie del gruppo e quindi noi qui da fratelli Giacome sul prodotto nuovo abbiamo ancora le tre rate in omaggio per volkswagen ticross venite a trovarci così vediamo insieme tutte le vetture in pronta consegna che abbiamo a disposizione vi aspettiamo anche sui nostri social instagram facebook e sul nostro sito fratelli Giacome il punto it grazie a tutti e buona serata ed eccoci in casa audi pronti per parlare di una grandissima novità audi e-tron sportback ce ne parlerà ovviamente paolo una macchina totalmente elettrica ciao paolo ciao a tutti un benvenuto ben ritrovati da paolo fratelli Giacome l'audi è sempre un piacere potervi presentare i nuovi modelli di audi oggi vi presento la nuova itron s in questo caso è una itron s sportback si può avere la versione normale versione sportback oggi parliamo di versione sportback questa in particolare un allestimento sport monta un motore totalmente elettrico quindi una vettura totalmente elettrica con emissioni zero è una macchina molto performante perché a 503 cavalli tre motori elettrici un anteriore due posteriori e chiaramente un quattro ruote motrici questa in particolare un allestimento aggressivo con delle pinze dei freni gialli come potete vedere tetto panoramico oltre avere gli interni in pelle s line vi comunico che anche questa vettura può essere sempre acquistata al col piano di finanziamento audi value quindi vi ricordo che decidete che periodo utilizzare se 24 mesi 35 mesi verserete un acconto che decidiamo insieme e avrete un valore futuro garantito dopo due anni o dopo tre anni questo vi permetterà alla scadenza di poter decidere se tenere la macchina o renderla o sostituirla anche su itron s in questo caso l'itron s sportback si può effettuare il noleggio a lungo termine che è la soluzione migliore per poter pagare una rata unica avere una certezza di un canone certo e soprattutto alla fine decidere di poter cambiare e rinnovare la locazione sempre con Volkswagen Leasing vi invito a chiamarci la macchina va approvata come vi dico sempre vetture disponibili noi ne abbiamo chiamateci effettueremo il test drive è un nuovo tipo di guida perché essendo un motore totalmente elettrico ha una guidabilità completamente diversa le performance sono quasi da rs perché è una macchina a 503 cavalli quindi molto performante l'autonomia di questa macchina è di 400 chilometri essendo un motore totalmente elettrico bisogna anche entrare in un'ottica di guida un po' diverso perché se la utilizziamo in città ha un consumo inferiore rispetto a un motore endotermico però se la usiamo in autostrada i consumi aumentano rispetto a un motore endotermico che noi siamo abituati a utilizzare vi rinnovo di chiamarci è sempre un piacere parlare con voi un grande saluto da Paolo arrivederci presto ciao a tutti grazie